Il proprietario della Salernitana non si è convinto, non ha autorizzato l'operazione Joe Pedro, 700 mila euro netti a stagione per due anni sono ritenuti troppi per un calciatore di 32 anni, svincolatosi dal Fenerbace. Joe Pedro ha dato dalla scorsa settimana la sua disponibilità a trasferirsi a Salerno, ma sono trascorsi cinque giorni. Petracchi non ha ricevuto alcuna telefonata dagli Ervolini e dunque a questo punto avrà pensato il DS inutile aspettare ancora, attendere anche perché nel ruolo di attaccante centrale c'è solo Simi disponibile, occorre altro, almeno un attaccante in grado di assicurare potenzialmente un rendimento da doppia cifra. Ecco perché Petracchi sta lavorando pure su altri profili, altri potenziali obiettivi sui quali puntare per rinforzare il reparto offensivo della squadra Granata dopo la partenza di Bulaidià. Sull'agenda del DS ci sono tre nomi, italiani e stranieri, uno di questi, unico indizio che emerge, è quello di un 23 anni attaccante austriaco che la Salernitana vorrebbe prendere con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Per l'attaccante ingaggio di circa 500 mila euro netti per un anno, di più per ora non si sa l'unica certezza. Che la Salernitana adesso va di fretta perché con il mercato in chiusura e le partite ravvicinate il campionato non aspetta ed in avanti la squadra è incompleta.